Quasi un terzo dei nuovi tamponi risulta positivo, ovvero il 27,9% delle persone che hanno fatto un tampone per il Covid per la prima volta nella settimana che va dal 28 ottobre al 3 novembre risulta contagiato. Questo perché nel bollettino statistico giornaliero, che si realizza con gli stessi parametri in tutte le regioni italiane, vengono inclusi tutti i tamponi fatti nelle ultime 24 ore, vale a dire anche quelli su soggetti già positivi al virus che servono per verificarne la guarigione, tecnicamente parlando i tamponi processati nell'ultima giornata. Dunque l'incremento dei nuovi malati rispetto alle persone che vanno a fare il test è molto più alto come certifica l'analisi fatta dalla fondazione Gimbe. La percentuale è in netto aumento rispetto alla settimana precedente, quella del 21 al 27 ottobre, quando era risultato positivo il 19,6% dei testati. Secondo i dati analizzati in regione in una settimana i casi sono aumentati di oltre il 35%, le persone attualmente positive sono 474 ogni 100.000 abitanti contro le 283 della settimana precedente. In regione sono testate in media 910 persone ogni 100.000 abitanti, cifra in aumento rispetto a 7 giorni prima. Sul fronte dei ricoverati con sintomi in Friuli Venezia Giulia, la fondazione Gimbe registra nell'ultima settimana 16,9% i ricoverati ogni 100.000 abitanti contro i 35% di media a livello nazionale. Nella settimana precedente il dato si fermava a 11,4%. Infine i ricoverati in terapia intensiva risultano essere in Friuli Venezia Giulia pari a 3,2% ogni 100.000 abitanti contro i 2,6% della settimana precedente.